Ciao a tutti, mi chiamo David e sono un americano che vive in Italia. Faccio questo video perché volevo dare un po' di informazione su cos'è la cross. In realtà faccio questo video perché una mia professoressa mi ha scritto proprio oggi chiedendomi un po' di informazione perché sua figlia voleva giocare, o iniziare a giocare alla cross e quindi mi ha chiesto come funziona, cos'è la cross, come si gioca, eccetera. Quindi io cercherò di fornire questa informazione in questo video. Questa bambina è piccola e quindi uso questo come un esempio per dire che tutti possono giocare anche con i piccoli. Anche adesso se uno si stanca di fare le stesse cose, diciamo, in giardino, in casa, potrebbero iniziare a giocare a qualcosa di diverso e è anche molto divertente. Quindi iniziamo da capo. Cos'è la cross? La cross fu lo sport dei nativi americani che ovviamente giocavano in America ma anche in Canada dove è ancora lo sport nazionale canadese assieme a hockey. Ma come si gioca? Praticamente si gioca con questa stecca che è una stecca normalissima maschile che ha, diciamo, la stecca stessa e anche, diciamo, la testa della stecca e poi questa parte qua che si chiama la tasca, ok? Oppure pocket in inglese. Praticamente questa è molto simile alla stecca femminile. L'unica differenza è che la tasca è molto più stretta, ok? È molto più, diciamo, come una racchetta da tennis. Questa è la palina che è fatta da gomma e è piuttosto dura, però ci sono anche paline più morbide per bambini piccoli, ragazzi, ragazzini. Anche stecca è più piccola. Praticamente le dinamiche del gioco sono pressoché simili a quelle del calcio. L'unica, cioè, ci sono alcune differenze ovviamente. Per esempio, si gioca 10 contro 10, però con una porta inferiore, quindi con dimensioni di 180 per 180. E questo, cioè, l'obiettivo è come calcio per segnare più gol degli avversari e quindi praticamente si usa questa stecca come una catapulta sia per fare i passaggi in aria e anche per fare i tiri e segnare gol. Quindi praticamente diciamo che il movimento è più o meno questo, ok? Per tirare la palina. Se la palina trocca a terra non succede niente, si prende la palina e si riprende. È uno sport bellissimo perché si fa tanti gol, però non troppi, diciamo, cioè non è che ogni 30 secondi c'è un gol. Diciamo che un putteggio normale sarebbe tipo 12-13, ok? E quindi è uno sport bello anche per questo. Perché la tasca è diversa nella cross maschile? Perché la cross maschile ha più contatto fisico. La cross femminile ha anche molto contatto fisico, però la cross maschile ne ha di più. Per questo portiamo anche caschi, paraspalle, paragomiti e guanti. E quindi basta, questo è più o meno come si gioca. Ma dove si gioca? Si gioca ovviamente in America, però anche adesso in Europa. Si può trovare la cross, dove, diciamo, c'è una comunità un po' più, diciamo, internazionale, dove ci sono americani, canadesi, eccetera. Adesso in Italia ci sono due squadre maschili a Milano, una a Roma e una vicino a Bologna. E poi ci sono diverse anche squadre femminili nelle stesse città. C'è anche una squadra nazionale maschile, di cui io ne faccio parte, solo da quest'anno. E' anche una squadra nazionale femminile, che in realtà esiste da, diciamo, 5-6 anni, anche forse di più. E quindi in Italia ovviamente non è molto diffuso come sport, però sta crescendo e stiamo, diciamo, da quest'anno cercando di far crescere questo sport proprio per il fatto che è uno sport bellissimo e dà l'opportunità a ragazzi di fare qualcosa di diverso che il solito, diciamo, basket, calcio, volley, che fanno in attività fisica. Quei sport vanno benissimo, li ho fatti anche io, però è uno sport molto diverso e anche molto divertente. E il bello è che tutti possono giocare a tutti i livelli, tutti, e anche tutti con corpi che sono fatti diversi, no? Non è che uno per giocare a lacrosse non deve essere alto due metri, per esempio. E quindi, niente, questo è più o meno come si gioca, dove si gioca e cos'è lacrosse. Se avrete un po' di informazione in più, potete cercare online, scrivete lacrosse Italia, oppure su Facebook, ma anche Instagram. Effettivamente ho visto che ci sono pochissimi video, su YouTube, su lacrosse in Italia, e quindi volevo fare questo come, diciamo, un'introduzione a quelli che non conoscono molto bene lacrosse e avrebbero un po' di domande su come funziona. Ci sono anche diversi posti dove potete trovare attrezzature, se foste interessati, e niente. Quindi io sono contento che la mia professoressa mi ha chiesto come si gioca, e un po' di informazione, così mi ha fatto uno spunto per fare questo video. E quindi la saluto, e vi saluto a tutti. E niente, restate a casa, e ci sentiamo magari per un prossimo video, se avete domande. Ciao!